Il lupo e il cane C'era una volta un lupo, molto magro e affamato, che da giorni vagava nel bosco in cerca di cibo, ma non trovava nulla da metter sotto i denti. Una sera, mentre passeggiava, passò davanti al cortile di una casa e vide che vi era un cane, ben pasciuto e grassottello. «Beato te!» disse il lupo al cane. «Come fai a essere così pasciuto? Dove trovi tanto da mangiare?» «Sai!» rispose il cane. «Il mio padrone è un bravo uomo. Mi riempie la ciotola ogni giorno, mattina e sera.» «Wow! Che cane fortunato che sei! A me nessuno riempie la ciotola.» «Se vuoi!» rispose il cane. «Possiamo chiedere al mio padrone e puoi stare qua. A quel punto avrai la ciotola riempita anche tu, mattina e sera.» «Ma sarebbe fantastico!» disse il lupo. «L'unica cosa che dovrei fare è stare qui e stare ben attento che non entri nessun ladro o malintenzionato in casa.» «Vedrai, è facile. E poi ci sono qua io. Ti insegnerò tutto quello che c'è da sapere. E ben presto sarai un ottimo lupo da guardia.» «Ma sì, ci sto!» disse il lupo. «Possiamo andare subito a parlare col tuo padrone? Non vedo l'ora di avere una ciotola di cibo riempita.» «Certo, andiamo.» «Ma mentre si stavano avviando, il lupo si accorce che il cane aveva uno strano segno sul collo.» «Che cos'è quello? Che cosa hai fatto al collo?» gli chiese. «Ah, questo, dici? Eh, è il collare. Il padrone me lo mette ogni giorno o quando mi lega la catena.» «Che cosa? Ti lega la catena? E quindi non puoi andare dove ti pare?» «Eh, no!» rispose il cane. «Di giorno mi lega la catena, ma la notte mi libera per fare la guardia.» «Ah, no, no!» allora rispose il lupo. «Me ne torno subito nel bosco.» «Preferisco mille volte andare dove voglio che avere la pancia piena e vivere in catene.» «Sai, amico mio, la libertà non apprezzo.» «Sai, amico mio, la libertà non apprezzo.» «No»